Presidente, nasce una nuova scuola Sì, vediamo qui, stanno mettendo giù i pali, un'altra donazione a Muccia è una scuola importante, è la seconda che la fondazione di Andrea Bocelli dona alla nostra regione nel giro di pochi mesi qui i bambini di questa comunità li troveranno i loro spazi una bellissima esperienza, una grande collaborazione la solidarietà da parte nostra di vedere giorno dopo giorno avanzare quella ricostruzione necessaria